Falso, se troviamo valori di pressione elevata non dobbiamo sottovalutarli perché l'ipertensione è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolari. Se non trattata adeguatamente porta a un incremento dello sviluppo di patologie come l'angina, l'infarto, l'ictus, lo scompenso cardiaco o la fibrillazione astriale. In caso trovassimo la pressione elevata dobbiamo rivolgere al medico di medicina generale, iniziare subito un controllo dello stile di vita riducendo l'apporto di sodio con la dieta, incrementare l'apporto di potassio con frutta, verdura, fare un'adeguata attività fisica aerobica, perdere peso se sei sovrappeso, smettere di fumare. Se questo non è sufficiente dovremo quindi iniziare una terapia farmacologica sotto il controllo del medico.